Se è il primo video che vedi, ti consiglio di mettere in pausa e leggere, altrimenti vai pure avanti tranquillamente. Ciao gente, in questo video di Attacco dei Giganti voglio parlare di un terzetto di personaggi molto amati dal fandom, uniti da legami di sangue. Oggi infatti si parla dei clan Ackerman, per andare in ordine di età, ma anche in ordine alfabetico, Kenny, Levi e Mikasa. Grazie a Yama di averli disposti così, in questo modo il mio disturbo ossessivo compulsivo è soddisfatto. Ho già citato l'OCD e uno di questi personaggi ne ha una forma molto marcata. Questa triade è composta di personaggi dall'enorme valore militare e dall'ancora più enorme valore umano. Tranne Kenny, che è uno stronzo, ma lui ha avuto almeno un momento di umanità. Ma lui ha avuto almeno un momento di bontà, dai. Ognuno di questi personaggi è strettamente legato a un altro personaggio che gli ha fatto fare il click nel cervello. Personaggi che ho già trattato, chi in video specifici, chi in un video generico con altri personaggi. Siete pronti a conoscere meglio queste tre macchine da guerra? In caso affermativo preparatevi a offrire i vostri cuori! Il clan Ackerman è una famiglia eldiana. E già qui sorgono dei dubbi, visto che molti del fandom non la considerano tale. Dopotutto non è soggetto ai poteri che di solito condizionano il popolo di Myr. Ma i suoi membri vengono comunque richiamati nei sentieri quando Eren fa le varie convocazioni. Quindi io vedo la loro probabile origine come una famiglia eldiana in cui uno degli antichi possessori del gigante progenitore abbia un po' pasticciato con il potere di controllare i corpi. Così da ottenere delle guardie del corpo perfette. Talmente perfette da renderle immuni ai suoi poteri e a quelli dei suoi successori. Non importa l'origine. Sembra che il loro potere sia quello di sapere sempre cosa fare nei momenti di frenesia del combattimento. E, almeno sembra, di ottenere le capacità fisiche di un gigante senza trasformarsi, senza perdere il raziocinio e senza dover evitare uno dei nuovi giganti in muta forma. Secondo altre fonti, invece, sono in grado di ottenere tutte le capacità e le esperienze di combattimento dagli Huckerman del passato, ricevendole tramite i sentieri. E già il fatto che siano connessi ai sentieri, direi che li rende Eldiani. Sappiamo tutte queste informazioni da Zeke che non è mai stato un gran studioso, ma il suo predecessore, Tom Xaver, lo era e se ha realitato le sue memorie, è possibile che conosca anche i risultati delle sue ricerche. Eren spiega poi a Mikasa che il potere degli Huckerman va sbloccato in condizioni di forte stress, in cui devono individuare un padrone da proteggere. Una specie di surrogato del loro re. Zeke ritiene che tutto questo sia falso e che Mikasa si comporte così con Eren perché gli vuole bene. Ha specificato che non sono schiavi. Al massimo possiamo dire che sono servi, ma sono servi di un certo livello, come capiremo alla fine. Come appunto ho scritto nella miniatura del video, servi di uno, schiavi di nessuno. E comunque, anzi a chiamare dei padroni, visto che non sono schiavi, definisco queste persone le persone che gli hanno fatto fare click, gli hanno fatto scattare qualcosa dentro. Potere a parte, la loro storia è sempre stata al fianco dei re di Eldia, i Fritz, fino al 743. Quando Carlo Fritz, 145 re di Eldia, si ritirò sull'isola di Paradise e fece sorgere le trecenta murarie. Lì cancellò la memoria ai sudditi, ma non potrei cancellare agli Huckerman perché appunto erano immuni. Visto che loro non ci stavano, con questa storia del giuramento di rinuncia alla guerra, e ricordavano cosa c'era nel mondo esterno, i Fritz, ormai diventati Reiss, scatenarono delle pesanti persecuzioni contro di loro. Questo decimò completamente la famiglia Ackerman, fino a che il capo della famiglia si sacrificò affinché queste persecuzioni terminassero. Terminassero mica tanto, visto che andarono avanti fino all'829, 86 anni dopo. Ma andiamo con calma. La storia effettiva della famiglia Ackerman che conosciamo comincia con Kenny, serial killer famoso per sgrozzare le sue vittime, noto come Kenny lo squaltatore. Ogni riferimento a Jack lo squaltatore è puramente voluto. Fece fuori circa 100 membri della gendarmeria, così da vendicare la sua famiglia, visto che veniva perseguitato senza che lui ne sapesse il motivo. E se già ci odiavano, tanto vale che ci odino per un buon motivo, no? Suo nonno gli rivelerà il vero motivo in punto di morte, e lui lo trovò divertente tutto qui. Forse perché il nonno gli aveva spiegato che gli Ackerman non erano odiati, erano solamente molto temuti, e quindi gli dimostrava che aveva fatto davvero un buon lavoro. La vera domanda è, suo nonno sapeva del mondo fuori dalle mura? In quel momento le mura esistono da 86 anni. Il nonno non so se ne avesse davvero 86, si vede che è anziano, ma non possiamo garantire proprio questo. Anche se ne avesse proprio 86, arriva pochi mesi quando sono state create le mura, ma magari i genitori gliel'hanno detto. Secondo me lo sapeva, ma non ha detto nulla a Kenny. Poco dopo, il nostro carissimo serial killer tenderà un agguato a Uri Reis, vero re delle mura, e suo fratello Rod. Proverà prima a sparargli e poi ad accoltellarlo, ma entrambe le volte senza successo. O meglio, un successo lo ebbe, ma non quello desiderato. Quando Uri venne a sapere delle motivazioni di Kenny, si scusò con lui e si assicurò che tutte le persecuzioni verso gli Ackerman terminassero, questa volta per davvero, offrendo poi la sua amicizia allo stesso uomo che aveva cercato di assassinarlo. E qui abbiamo il click di Kenny, ricevuto da parte di un uomo dall'immenso potere, ma che decide di non utilizzarlo, avendo l'umiltà di chiedere scusa e la bontà di non cedere alla vendetta. Kenny diventerà quindi il fedele braccio destro del vero re delle mura, almeno per i 13 anni di mandato di Uri, di cui sarà il migliore amico. In questo periodo vivrà in superficie, alla luce del sole, tornando raramente nella città sotterranea. In queste rari visite scoprirà che la sorella cruciale era rimasta incinta, e successivamente era morta dando alla luce un figlio, Levi, di cui si prenderà cura quanto basterà perché imparassi a badare a se stesso, per poi abbandonarlo. Questi sono gli unici gesti buoni che fa Kenny in tutta la storia. E sempre di Kenny sappiamo che dopo la morte di Uri, avvenuta dopo i 13 anni appunto, nell'842, quando verrà divorato dalla nipote Frida, diventerà il capitano di una speciale squadra della morte del corpo di gendarmeria, che si occupava di far fuori le persone scomode. Lui troverà molto divertente il fatto che era diventato il capo di alcune persone che aveva ammazzato per così tanto tempo. Finalmente, poteva dare sfogo alla sua violenza in modo legittimato. Ma passiamo a Levi. Dopo che Kenny lo abbandonò, divenne un criminale abbastanza famoso nella città sotterranea. Tuttavia aveva evidenziato come da piccolo fosse terribilmente denutrito. E questo gli causerà non pochi problemi in crescita, visto che anche quando sarà un uomo adulto non supererà il metro e sessanta. Praticamente è Tom Cruise. Inoltre, la costante permanenza nello sporco della città sotterranea gli causerà un'elevata misofobia. Non lo si vede mai stizzito nel toccare oggetti sporchi o infetti, anzi, si sporca di sangue più di una volta, anche di altri tipi di sporcizie. Ma lui ha la tendenza a pulire tutto. Ormai è entrata meme questa sua ossessione per la pulizia. Sicuramente c'è anche del disturbo ossessivo compulsivo. Non voglio immaginare che An si ha sviluppato stando da solo in quel posto, crescendoci e poi diventando un criminale. Sappiamo che ruberà un dispositivo di manovra tridimensionale dei soldati del corpo di guarnigione. E imparerà a utilizzarlo meglio di chiunque altro. Lui nel manga è uno dei pochi, ma sappiamo che sono il primo a riuscirci, a usare questo dispositivo per muoversi in diagonale. Ed è per questo che nel video del mese scorso l'ho messo come alfiere. Dimostrerà di saper dare valore all'oggetto che aveva rubato. Visto che lui, sotto a sotto, aveva un grandissimo desiderio di raggiungere il mondo di superficie, come suo zio Kenny. Di cui tra l'altro non sapeva il rapporto di parentela, se rappresentato come un amico di sua madre. Il raggiungimento del mondo di superficie sarà possibile nell'844, grazie a Derwin Smith, un ufficiale del corpo di ricerca, che cercò di reclutarlo. E all'inizio Levi non si fidava, diceva no no sto già bene qui, mentendo a Derwin ma soprattutto a se stesso. Ma è riuscire a riconvincerlo e a dargli il permesso quindi di spiccare il volo all'aria aperta fuori dalla città sotterranea. Ed è così che scattò il click per Levi, da parte di un uomo verso cui provava un profondo senso di gratitudine, per avergli permesso di svoltare la sua vita e di conoscere la vera libertà. Levi aveva deciso di servire in paradiso, mentre Kenny aveva preferito regnare all'inferno. Anche Levi verrà utilizzato per dei lavori sporchi, ma lui non arriverà mai a prenderci gusto, facendoli e sacrificandosi nel farlo. Non come Kenny che adorava il suo essere finalmente diventato un assassino legale, legittimato dalle autorità. Passiamo ora a Mikasa. Lontana cugina di Levi e Kenny, di cui non sappiamo l'esatto grado di parentela, necco dal signor Ackerman e da sua moglie, l'ultima pura sangue asiatica all'interno del Cint del Mura, discendente dalla famiglia Zumabito. Lei marchirà il polso della figlia con il simbolo del loro clan, cosa che non verrà ripresa per un bel po' di tempo, ma che tornerà molto utile al 100 capitoli più tardi. Stavo dicendo, Mikasa nacque il 10 febbraio 835. Nell'844 i suoi genitori vennero ammazzati da dei trafficanti di esseri umani che la volevano rapire, ma grazie all'intervento di Eren Jaeger riuscirà a salvarsi. Va detto che durante il salvataggio era nello stato catatonico più assoluto, ma venne riscossa dalla motivazione che le diede a Eren, che la spingerà a ripugnare un coltello e a fare fuori l'ultimo rapitore, e in questo modo scatterà il click anche per Mikasa. Verrà quindi adottata dal dottor Jaeger, padre di Eren, mentre il figlio le avvolgeva il volto con una sciarpa, facendola sentire al sicuro e protetta e promettendola che ci sarebbe sempre stato per lei. E in questo modo il click fu definitivo, da parte di Eren. Ormai era perdutamente innamorata. Sarà un amore molto cavallerisco, molto platonico, non ci sarà nessuna consumazione. Diciamo che era casto e volto più che alto alla protezione di Eren da parte di Mikasa. Rivediamo tutti questi personaggi nell'845, con l'arrivo del gigante colossale corazzato. Mikasa perderà altri due genitori, Grisha e Carla Jaeger, finendo con una sfollata nel volo rose. Kennen verrà invece inviato dalla nobiltà per far fuori l'amante e la figlia illegittima di Rod Reis, in quel momento in cui il potere dei titani stava vacillando. Riuscirà ad ammazzare soltanto Alma, mentre Historia verrà risparmiata e inviata poi come sfollata e poi come militare. L'Erwin invece resterà al fianco di Erwin, quando questi divenne il tredicesimo comandante dell'armata ricognitiva. Nel suo corpo si arrolirà Mikasa dopo due anni passati a fare la contadina e altri tre anni nel 104esimo corpo cadetti. Lei era determinata ad entrare nel corpo di ricerca per seguire Eren, che non avrebbe mai cambiato idea e lei necessitava, proprio fisicamente, di proteggerlo. E sempre nel 104esimo corpo cadetti si classificherà come prima, superando anche i tre guerrieri infiltrati che avevano già ricevuto un addestramento militare. Prendeva parte la battaglia di Trost, dove si distinguerà per l'ammazzare numerosi giganti e per essersi rivelata fondamentale nello sfollamento di numerosi civili, visto che il carro di Dimo Reeves upava il passaggio per il Wall Rose. A un certo punto le aggiungerà la notizia che Eren era stato divorato da un gigante, e questo la lascerà scioccata, tanto che praticamente deciderà di farla finita. Dopotutto continuerà a combattere, ma getterà ogni cautela al vento, tanto che sarebbe stata divorata da un gigante se Eren non fosse arrivato a salvarla in forma di gigante muta forma. Avrà la sua occasione per salvarlo quando si ritroveranno puntati contro i fucili del corpo di guarnigione, ponendosi in mezzo, ma non ci sarà bisogno di prendersi proiettili. Sarà poi fondamentale anche nella fase successiva della battaglia, quando guiderà il gigante di Eren che sosteneva il macigno, sbaragliando i suoi ostacoli, così che potesse venire richiusa alla breccia. Nella storia torna ora anche Levi Ackerman, che farà da avvocato difensore ad Eren durante il suo processo, per determinare se fosse un pericolo oppure un aiuto all'umanità. C'è la scena che spesso lascia confusi. Perché Levi pesta come una zampogna a Eren? C'è più di un'interpretazione, dimostrare che Eren è sotto controllo, visto che non si ribella né si trasorme in un gigante, ma anche dimostrare a tutta la corte come non gli verrà riservato nessun favoritismo. Come lo aveva già spaccato di botte mentre era ancora mansueto, lo avrebbe spaccato di botte anche se avesse provato a ribellarsi. E per maggior sicurezza Eren verrà colto nella squadra Levi, dove farà la conoscenza di tanta carne da cannone. Forse se è sentito male, volevo dire, farà la conoscenza di tante brave persone. Tutti si ricordano di Petra perché era la più carina, ma cito i nomi di tutti per dargli giustizia. Elgin, Gunthor Schultz, Olubo Zado e infine Petraral. Prenderanno parte la 57esima spedizione fuori dalle mura, in cui Eren verrà preso di mira da anni. Lì l'intera squadra Levi si sacrificherà contro di essa, escluso il capitano, per proteggere Eren, ma in vano. Lì allora Levi furioso si scaglierà contro Annie in forma di gigante femmina e anche Mikasa lo farà e riusciranno comunque a salvare Eren. Mikasa avrà anche un ulteriore scontro contro di essa quando le tenderanno un'imboscata nel distretto di Storhes, visto che la trappola non funzionò come previsto e quindi ci fu comunque lo scontro tra Eren gigante d'attacco e danni gigante femmina. Mikasa anche questa volta sarà fondamentale, visto che trancerà le dita di Annie mentre questa cercava di scappare arrampicandosi oltre l'Ualsina. Quel momento in cui Mikasa dice ad Annie di cadere è esemplificativo di quello che hanno fatto barra faranno gli Ackerman alle loro persone speciali, quelle che gli hanno fatto scattare il click. Nell'Evin e Mikasa sono coinvolti negli eventi di Castello Utgard, ma Mikasa è sulle cima del World Rose quando Reiner e Bertolt si rivelano come gigante corazzato e gigante colossale. Cerca di eliminarli prima che possano trasformarsi, tagliando una mano a Reiner e sgozzando Bertolt, ma in vano. Sarà anche tra i primi di quelli che raggiungeranno Reiner in fuga, quindi potrà sentire Bertolt che piangeva e dava quella mezza confessione. Verrà ferita nel tentativo di salvare Eren e quindi dovranno assistere impotenti mentre Hannes veniva divorato dal gigante di Dinafrizz. Non avrà modo di difendersi e quindi ormai, un po' come tutti, si stava preparando alla fine e si limiterà a consolare Eren prima dell'inevitabile, ringraziandola ancora una volta per essersi preso cura di lei e per averla aiutata molto in quei sei anni. Secondo me lì davvero Mikada si stava preparando a morire e comunque non riuscirà a confessare il suo vero amore per Eren. Tuttavia si salveranno per il contatto tra il gigante fondatore di Eren e il gigante di sangue reale di Dinafrizz, in questo modo si attiverà la coordinata e molta gente riuscirà a salvarsi. L'arco narrativo in cui tutti e tre gli Ackerman avranno un ruolo, pur senza incontrarsi mai effettivamente, sarà quello del colpo di stato. Ma incontrarsi tutti e tre, dico, a coppie si incontreranno. Mikada si occuperà della sicurezza di Eren. Come sempre, ma questa volta non farà un buon lavoro, visto che verrà rapito e portato nella grotta dei Reis. Kenny invece cercherà di mettere il bastone tra le ruote ai nostri eroi, venendo a sua volta ostacolato da Levi. I due si sconteranno nelle vie del distretto di Trost, in uno degli scontri tra umani più fighi di tutta questa opera. Mikada sarà anche una delle fautrici dell'alleanza con i Reis, stessa famiglia che qualche mese prima stava rallentando lo sfollamento dei civili del distretto di Trost. Ma questa volta saranno utili alla causa dell'armata ricognitiva. Nel mente Levi si occuperà di torturare i prigionieri insieme a Danji. Come ho detto, lui veniva utilizzato tranquillamente per i lavoretti sporchi. Nel frattempo, Kenny è rimasto alleato di Rod Reis, anche se un'alleanza di mera facciata. Visto che aveva intenzione di trasformare se stesso in un gigante e di volare Eren, così da ottenere lui i poteri che erano stati del suo migliore amico Uri. Tuttavia, ascoltando le parole di Rod, scoprirà che il vero potenziale potrebbe essere sbloccato soltanto da un membro della famiglia reale. Capendo quindi che il suo piano era andato completamente a farsi benedire, si incazzerà non poco con Rod, arrivando a puntargli una delle sue pistole in faccia e ad aprire gli occhi di storia, facendole capire come suo padre la stesse solamente utilizzando, e che l'aveva salvata soltanto perché tutti gli altri figli erano morti. Rod cercherà di tranquillizzarlo e di consolarlo, dicendogli che al bene potrebbe avere una vita lunga, ma Kenny non lo troverà molto divertente, quindi squarcerà la fronte ad Eren, per provocargli un dolore sufficiente da permettergli la trasformazione in gigante, terrorizzando padre e figlia, per dirgli, si volete prendere il suo potere, certo, ma prendetevelo alla pari, non mentre lui è legato. Se andrà poi per affrontare i nostri eroi che nel frattempo stavano facendo irruzione nella grotta. Durante la trasformazione di Rod Reiss riuscirà a salvarsi e uscire dalla grotta, ma rimarrà gravemente ferito, e anche ustionato, morendo poco dopo aver preferito le sue ultime parole con Levi. Gli confesserà che era suo zio, e che in fondo aveva sempre saputo che non sarebbe mai potuto diventare il gigante progenitore, spiegando che era andato avanti convincendosi del contrario, perché come tutti anche lui si era ubriaccato di qualcosa. Una qualche convinzione a cui ci si sforzava di credere per poter andare avanti. Mikasa e Levi diventeranno quindi i due Ackerman rimasti. Prenderanno parte alla riconquista di Shiganshina, la prima nel distretto, appunto, di Shiganshina, l'altro nei territori del Bulmaria. Mikasa cercherà di fare fuori Bertold mentre Armin lo distraeva parlando, ma riuscirà soltanto a tagliargli un orecchio. In ogni caso imparerà a utilizzare bene le nuove lanciatonanti. Per Levi, invece, giungerà un momento molto amaro, quello in cui dovrà convincere Erwin a guidare le recluti all'inferno. La frase, rinuncia al tuo sogno e muori, è atroce, ma mostra come Levi sia la persona giusta per questo genere di cose. Lui e tutti gli Ackerman. Kenny era stato sul punto di uccidere Uri. Levi ha dato ad Erwin il permesso di morire, anzi glielo ha praticamente ordinato. Mentre Mikasa sappiamo bene cosa farà con Eren. Levi arriverà a scontrarsi contro il Gigante Bestia, mettendolo in serie a difficoltà, ma questi si salverà soltanto grazie a Pic e anche ai Giganti Puri sotto il suo controllo. E dopo questa battaglia ci sarà lo scontro tra di lui e Mikasa. Mikasa voleva salvare Armin con il siereo del Gigante, Levi voleva salvare Erwin. Il capitano andrà ad avere difficoltà nel compiere una simile scelta, ma alla fine salverà Armin, perché lui vedeva un possibile futuro, mentre per Erwin non ci sarebbe stato nessun margine di avanzamento e inoltre sarebbe stato un uomo spezzato. Parlerà con il suo corpo esanime e fino a qui alla fine lui non spiegherà. E per quanto fosse in stato di incoscienza non potesse rispondergli probabilmente gli fece piacere sentire la voce del suo migliore amico, almeno nei suoi ultimi istanti. Da lì in poi Levi avrà un'importanza molto ridotta. Tutto quello che farà sarà in funzione di Zeke, che vorrà ammazzare, come aveva promesso a Erwin prima che Christian andasse a morire. Questa può sembrare un'involuzione, ma alla fine dei conti è ragionevole, perché senza la persona che proteggeva la sua vita era vuota. Mikasa invece ha una parte più interessante, e non parlo di quando incontrerà gli Azumabito che gli diranno che era erede di Staceppa. Lei è simile ad Eren su molti aspetti, ma riesce ad apprezzare il mondo, sia dentro che fuori le mura. Lei, a differenza di Eren, può vivere in un periodo di pace, e farà del suo meglio per spingere Eren a riuscirci. Tuttavia lui ormai era bloccato nel suo loop delle visioni. Forse il momento più intenso tra i due sarà quando Eren, sconsolato, chiede a Mikasa cosa fosse lui per lei, e la Ackerman non potrà che rispondergli famiglia, visto che, come Eren dopo tutto, non era capace di esprimergli i suoi veri sentimenti. Quella sarà l'ultima volta che si vedranno, almeno fino al massacro di Liberio, dove si ricongiungeranno nel bel mezzo della battaglia. Le prime parole che Mikasa rivolgerà ad Eren saranno appunto, torniamo a casa, ma lui non poteva ascoltarla perché ormai avrà preso una direzione e non poteva che avanzare lungo di essa. Quando, dopo la battaglia, torneranno a Paradis, anche Levi avrà il suo Jäger. Le verrà infatti assegnate la custodia di Zeke, mentre Mikasa non potrà vedere Eren, in quanto lui verrà gettato in grattabuia per insubordinazione. Zeke nel frattempo trasformerà l'intera squadra di Levi in giganti puri, pensando che lui ci facesse problemi ad ammazzare i suoi stessi compagni. Pensando davvero molto male, visto che ne aveva persi talmente tanti che ammazzarne qualcuno in più non gli faceva proprio né caldo né freddo. Tuttavia farà un grosso errore, prenderà Zeke e gli infilzerà una lancia tonante nella pancia. Così se faceva qualche movimento in consulto sarebbe saltato per aria. Il problema è che non aveva considerato che anche lui sarebbe saltato per aria, cosa che in effetti succederà, subendo gravi ferite, restate stando sfigurato, perdendo qualche rito e sappiamo che alla fine di tutta quanta la storia sarà in serie a rotelle. Le cui ritmo soccorso verranno prestate da Angie, che per quanto sappiamo abbia delle capacità mediche, non è un dottore o una dottoressa. Mikasa invece ci ricongiungerà con Eren, ma solo per sentirsi dire in faccia che era sempre stata odiata. Eren mentendo le dirà che non avrà provato altro che disgusto nei suoi confronti, nel vederla prostrarsi come una sua schiava, dimostrandosi priva di libero arbitrio. Riuscirà quasi a condizionarla, visto che quando Armin cercherà di tirargli un pugno, Mikasa fermerà Armin. Tutto questo ovviamente era una strategia di Eren per fare in modo che lei si allontanasse da lui, che gli permettesse di fare ciò che non aveva alternativa di fare. Avrà la sua parte nella battaglia successiva, a differenza di Levi che era ancora ferito. Eppure lei inseguirà la marcia dei colossali, fino a Fort Salva, mentre verrà scorsa dal continuo dubbio, sarebbe riuscito ad affrontare Eren oppure no. Lo scoprirà nel corso della battaglia del cielo e della terra, dove lei e Levi saranno gli unici eldiani a non venire trasformati in giganti puri, dopo tutto erano degli Ackerman. I loro bersagli principali saranno i fratelli Jaeger. Levi riuscirà a decapitare Zeke, nonostante le sue mutilazioni, arrestando quindi la marcia dei colossali, mentre Mikasa riuscirà ad entrare nelle fauci del gigante fondatore e a decapitare la testa di Eren, mostrando il suo amore, finalmente baciandolo. Prima Eren le aveva offerto una visione in cui i due scappavano dalla guerra e passavano insieme gli ultimi quattro anni di vita che restavano ad Eren. Tuttavia, lei resta legata a lui per molto tempo, anche dopo la fine della storia, visto che la si vede nelle tavole conclusive seduta vicino all'albero dove è stata sepolta la sua testa, mentre l'uccello le becca la sciarpa, rimettendogli a posto, proprio come aveva fatto Eren. E giuro che se quell'uccello è veramente Eren, lo faccio arrosto, perché ha proprio impedito a Mikasa di andare avanti, neanche dopo anni che erano passati anni da quando ormai era morto. Siamo qui alle conclusioni, dico brevemente che Levi è un personaggio molto amato dal fandom, ma io non lo amo così tanto, cioè mi piace perché è figo, ma secondo me ci sono personaggi molto più fighi all'interno di tutta l'opera di Sayama. Per dire, all'interno sempre di questo terzetto, Mikasa è dannatamente più affascinante. Levi, sì, è bello, non lo metto in dubbio, ma c'è di meglio. Poi ovviamente non voglio criticare il suo fandom, anzi, se ci ho fatto un video dove si parla anche di lui, forse è perché merita. Le azioni di Mikasa invece hanno spinto Ymir a capire che nonostante amassi un gran cattivone, potevi disprezzare le sue scelte e questo la spingerà a porre fine al potere dei giganti. Ed è questo il legame finale degli Ackerman con la famiglia reale, con la stessa progenitrice Ymir. In questo modo il cerchio si è chiuso. Gli Ackerman sono sempre state le guardie del corpo dei re di Eldia, sono stati i loro pretoriani. Come i pretoriani erano guardie del corpo, una polizia speciale e talvolta anche giudici e carnefici degli imperatori stessi. Il percorso degli Ackerman li ha condotti ad eliminare la loro persona speciale. Se ereditano le capacità combattive degli Ackerman precedenti, attraverso i sentieri, è ragionevole che ne ereditino anche i progressi. Kenny aveva iniziato cercando di uccidere Uri. Levi ha dato il permesso ad Erwin di morire, mentre Mikasa ha ucciso a tutti gli effetti Eren. Kenny aveva preferito regnare all'inferno, Levi servire in paradiso. Mikasa invece di vivere nel nostro mondo e apprezzarne la bellezza, anche per chi, come Eren, non era in grado di farlo. Kenny non desiderava altro che poter compiere le sue mare fatte indisturbato. Levi desiderava la libertà e Mikasa desiderava Eren, che a sua volta era libertà. Questi sono i loro motori, che li hanno portati a fare grandi cose. Nel caso di Kenny, terribili, ma comunque grandi. Levi si era ubriaccato poco, non a caso tra i suoi compagni, mentre fa la guardia a Zeke, è l'unico che non beve il vino intossicato. Ma sia Kenny che Mikasa si erano ubriaccati di qualcosa. Kenny di poter diventare un gigante potentissimo e ottenere il potere del suo amico Uri, e Mikasa si era ubriaccata del pensiero di poter cambiare Eren, di poterlo rendere felice, nonostante lui non sarebbe mai potuto essere felice in tempo di pace. Solo che alla fine si era veduta, capendo che ciò non era possibile, e quindi lo ha eliminato, dandogli appunto la pace. Si spera che alla fine sia riuscita ad andare avanti e a vivere la sua vita, e alle tavole extra quelle uscite un mese dopo del capitolo 139, ci fanno capire che probabilmente è così. A voi piacciono gli Ackermann? Qual è il vostro preferito del terzetto? La mia è Mikasa, ma come ho detto, non disdegno neanche gli altri due. Ditemi tutto quello che volete su di loro, poi mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, statemi bene e ciao ciao, alla prossima! Ciao!